Tempo di cambiare, il podcast in cui si incontra e riflette la minoranza indipendente. Questo è l'episodio numero 24. Ehi ciao, sono Italo Cillo, questo è il mio podcast Tempo di cambiare, www.tempodicambiare.it è l'indirizzo basso dove sono archiviati tutti gli episodi e questo è il primo episodio del 2013. Sono molto felice di risentirti, per me sono stati mesi molto molto intensi. Eccoci, diciamo che dalla sospensione prenatalizia del podcast a oggi è successo veramente, ridutto un po', è successo quelle cose che succedono non ogni morte di Papa, peggio, ogni dimissione di Papa che era successo soltanto un'altra volta a memoria d'uomo. Questo del Papa e quindi delle elezioni in Vaticano è un'altra delle notizie principali di questi giorni. E soprattutto sta circolando negli ambienti cosiddetti alternativi o cosiddetti di controinformazione la notizia di questo mandato di cattura internazionale nei riguardi del Papa. Siccome è qualcosa su cui avevo fatto riferimento in uno degli episodi precedenti, volevo chiarificare un attimino questa circostanza. In pratica si tratta dell'iniziativa di un tribunale indipendente, un tribunale di cittadini, chiamato Tribunale Internazionale Contro i Crimini della Chiesa e dello Stato. E' per l'appunto un tribunale indipendente, è un tribunale di cittadini, per così dire, costituito in base ai principi della Common Law anglosassone. Quindi la domanda è, ha valore questo tribunale? E' ovvio che questo tribunale non ha valore se fai questa domanda alle istituzioni, così come non hanno valore i commercial liens ai danni della Federal Reserve, se lo domandi alla Federal Reserve. Non hanno valore le dichiarazioni di indipendenza territoriale presentate al Tribunale Internazionale Laya. Così come non aveva valore la dichiarazione di indipendenza americana, se lo domandavi alla Corona Britannica, e così come non aveva valore la Costituzione della Repubblica Francese, se lo domandavi l'aristocrazia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qui la domanda corretta non è, è valido o meno? La domanda corretta è, chi lo riconosce e chi no? La Costituzione di questo Tribunale di Cittadini è formalmente corretta e valida secondo i principi della Common Law. Ovviamente questo non significa che il Tribunale sia riconosciuto da chi che sia. Attualmente, infatti, questo Tribunale non è riconosciuto da nessuno. Non ci saranno autorità che faranno rispettare le sue decisioni, però il fatto che non sia riconosciuto non significa che dica cose sbagliate. Attenzione. Il Tribunale afferma che è accaduto un genocidio aggravato e continuato di bambini indiani, di nazionalità Mohawk, in Canada, all'interno di scuole religiose gestite dalla Chiesa di Roma e dalla Chiesa Anglicana. Il genocidio è documentato in un documentario di un'ora e quaranta, adesso anche sottolineato in italiano, che ti metto a disposizione nella pagina di download di questo episodio. In fondo alla pagina, risorse consigliate, lo trovi ovviamente su www.tempodicambiare.it, alla pagina di download di questo episodio, che è l'episodio 24. È un documentario lungo e doloroso, perché ci sono interviste ai familiari e agli ex bambini indiani, ora diventati adulti, sopravvissuti a queste specie di lager e centri di tortura. E le testimonianze sono centinaia, e molti bambini sparivano nel nulla e per sempre. Venivano a prendersi degli oscuri figuri, fra cui, e ne ho fatto già accenno una volta in passato, i reali di Inghilterra in persona, marito e moglie, in un episodio della fine degli anni Sessanta, si portarono con sé dieci bambini indiani, e non si saprà mai più nulla di questi bambini indiani, nonostante le denunce dei fratelli, degli amici e così via, diventati grandi, e quelli che vollero testimoniare di questa sparizione, morirono in circostanze misteriose. E questi reali di Inghilterra non erano i suoi evidentemente, con loro successe una sola volta. Le scuole, queste scuole erano evidentemente usate come serbatoio di rifornimento, per pazzi, pedofili e satanisti, e con questo ho detto tutto. Ora, a fronte di questo genocidio vero e proprio, le autorità ecclesiastiche hanno sempre ignorato le richieste di riparazione. Per ogni crimine ci deve essere una riparazione, in favore delle vittime e in favore dei familiari. Giusto? Bene, le autorità ecclesiastiche hanno sempre negato questa riparazione, così questo tribunale civile ha posto sotto sequestro i beni e le proprietà del Vaticano, perché da questi beni dovrà essere fornita una riparazione per le vittime e i familiari. E così questo tribunale internazionale ha speccato un mandato di arresto internazionale ai danni del Papa Benedetto XVI in persona e del prossimo Papa, in quanto responsabili per gli eventi e per la loro riparazione, o meglio, responsabili per la loro mancata riparazione fino a questo momento. Ora, qual è il valore di questo mandato di arresto? La risposta è sempre la stessa di prima. Dipende a chi lo chiedi. Attualmente nessuno lo riconosce. Quindi è probabile che si possa considerare la stregua di una provocazione per scuotere l'opinione pubblica e farla parlare di questi fatti. Anche l'arresto? Non ci sarà nessuna autorità al mondo che lo eseguirà? Ecco perché è falso che il Papa si stia nascondendo in Vaticano per sfuggire a questo mandato di arresto internazionale. È anche vero che la Common Law prevede l'istituto dell'arresto civile. Ne abbiamo parlato in uno dei precedenti episodi. E se per questo anche la legge italiana prevede l'arresto civile, cioè un gruppo di cittadini onesti può arrestare un sospettato e attendere di consegnarlo nelle mani delle forze dell'ordine, affinché siano loro a decidere cosa farne. E sarebbero perfettamente nella legalità. Questa è l'azione che si voglia definire dimostrativa o meno, lo decidere tu, questa è l'azione che il Tribunale internazionale incoraggia, cioè l'arresto del Papa da parte di civili allo scopo di consegnare all'autorità che possano decidere su questo mandato di arresto internazionale. Ora, questi sono i fatti. I documenti relativi li trovi nelle risorse. Se vuoi approfondire, l'opinione finale naturalmente spetta a te. Fra 15 secondi continuiamo a parlare delle elezioni del Papa.